Musica Baby gang violenta a Palermo per l'aggressione dello scorso 4 dicembre in via Candelai in 5 finiscono in comunità. Infrastrutture il sindaco di Catania Trantino ha ricevuto a Palazzo degli Elefanti il vice premier Salvini. Manifestazione a Messina in occasione del convegno Il Ponte sullo Stretto Infrastrutture e Trasporti per Unire l'Italia. Presentato a Palermo il logo della rete per la promozione antimafia nella scuola che ha finora raccolto l'adesione di 90 istituti. Dal 13 al 18 giugno andrà in scena il terzo titolo di balletto della stagione Carmen, una nuova creazione realizzata per il corpo di ballo del Teatro Massimo. Bentrovati alla prima edizione di Media News di mercoledì 7 giugno. Sono ritenuti responsabili di lesioni aggravate in concorso. La polizia ha individuato gli autori di una violente aggressione avvenuta per futili motivi lo scorso 4 dicembre a Palermo in via Candelai. Eseguito un'ordinanza di custodia cautelare attraverso il collocamento in comunità a carico di 5 indagati appartenenti ad una baby gang. L'azione criminale è stata realizzata con improvvisa e cruenta violenza anche attraverso l'utilizzo di un tirapugni ai danni di 4 maggiorenni. Nell'occasione una delle vittime ha subito delle lesioni giudicate guaribili in 40 giorni, riportando una frattura mandibolare e trauma cranico che ha reso necessario un intervento chirurgico maxillo-facciale con l'applicazione di protesi nelle ossa facciali. Le indagini, avviate nell'immediatezza attraverso l'ausilio delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza nei luoghi dell'aggressione, hanno consentito di identificare i componenti del gruppo criminale di 15 individui, di cui due maggiorenni già deferiti alla locale procura della Repubblica, nonché di acquisire concreti elementi di colpevolezza al loro carico. Secondo il questore, la ricchia, il branco di 15 persone che il 4 dicembre ha colpito in via Machedangolo via Candelai è stato identificato e assicurato alla giustizia. 13 sono minorenni, adusi purtroppo alla violenza come unica modalità espressiva, una violenza feroce, priva di freni, apparentemente immotivata. In realtà la motivazione che nasconde è più preoccupante perché si elementa dell'istinto di sopraffazione del prossimo fino ad annullarlo. Le lesioni prodotte alle vittime sono gravissime, è tutto in nemmeno di due minuti, neanche il tempo di avvisare le forze di polizia, figuriamoci, di intervenire in flagranza. Le attività investigative, subito avviate e condotte alla questura, hanno consentito di ricostruire tutti gli aspetti dell'episodio e tutte le persone coinvolte, naturalmente nei tempi indispensabili, per un'indagine che possa supportare provvedimenti ben motivati dell'autorità giudiziaria. Ora gli atti verranno esaminati sotto il profilo della pubblica sicurezza per valutare l'emissione di ulteriori provvedimenti inibitori previsti dalla legge. A Catania controlli dei NAS nei depositi di alimenti etnici, sequestri e denunce nel corso delle ispezioni in tre diverse attività gestite da stranieri. Sono state sequestrate carni rumene, gamberi vivi della Louisiana ed altri alimenti privi di certificazione o mal conservati. Continuano i controlli dei carabinieri della NAS per la tutela della salute. Per quanto riguarda la provincia di Catania, durante un controllo eseguito su un mezzo adibito al trasporto di alimenti, riconducibile ad un'agenzia commerciale rumena con sede logistica a Catania, si è proceduto al sequestro di carne di origine suina proveniente da zone estere soggette a restrizioni. È stato segnalato alle autorità e referente locale dell'agenzia commerciale il valore delle carni sequestrate corrisponde a 30.000 euro. Sempre in città è stata poi sequestrata un'attività commerciale all'ingrosso di alimenti etnici, costituita da un capannone prefabbricato industriale. All'interno delle celle frigorifere sono state rinvenute circa 25 tonnellate di alimenti, prevalentemente carni e prodotti ittici importati illegalmente. Sono state poi sequestrate 4.000 chili di alimenti etnici del valore di 50.000 euro, prevalentemente vegetali, confezionati su pallet senza alcuna indicazione commerciale attestante la rintracciabilità. Il valore della struttura corrisponde a 200.000 euro. Si celebra oggi la giornata mondiale della sicurezza alimentare, iniziativa internazionale istituita nel 2019 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura e Codex Alimentarius e dal Ministero della Salute, Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione. Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute nelle tavole degli italiani nell'ultimo anno ha sequestrato oltre 8.000 tonnellate di alimenti regolari di varia natura. e ancora il valore complessivo di oltre 500 milioni di euro. Sono 798 le strutture, depositi, ristoranti, panifici, attività di produzione e vendita di alimenti vari chiuse per gravi irregolarità igienico-sanitarie e autorizzative. Bloccata nave madre a Pantelleria, la Guardia di Finanza ha fermato tre membri dell'equipaggio per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Le fiamme gialle del reparto operativo Arnavale di Palermo, operanti a Pantelleria, e sotto il controllo operativo della sezione navale di Lampedusa, hanno sottoposto alla misura del fermo per indiziato di delitto i tre membri dell'equipaggio di un'imbarcazione da pesca tunisina, con l'accusa di avere consentito l'ingresso irregolare in Italia di 8 migranti. Durante le fasi di avvicinamento il motopesca aveva intrapreso un arrotto in allontanamento, mostrandosi reticente al controllo da parte dei militari. Una volta fermato, i finanziari notavano la total assenza di pescato ed attrezzature totalmente asciutte ed inutilizzate. Questi elementi, uniti alle ottime condizioni di salute dei migranti intercettati, poco compatibili con chi affronta i viaggi della speranza via mare e la precarietà del gommone dove viaggiavano, sicuramente non in grado, sia per caratteristiche che per autonomia, di affrontare una traversata così lunga, hanno indotto i militari a condurre l'unità extracomunitaria presso il porto di Pantelleria per altri approfondimenti. Le successive attività investigative posti in essere dai finanzieri di mare, tutte svolte sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, si concretizzavano nell'esecuzione della misura del fermo di indiziato di delitto nei confronti di tutti i componenti e l'equipaggio del pesquereccio tunisino, i quali, sempre a mezzo di una unità navale del corpo, sono stati trasferiti a Trapani per poi essere tradotti alla casa circondariale Cerulli. A Caltagirone è stato danneggiato il defibrillatore donato alla città. I carabinieri denunciano un giovane di 22 anni autore del reato. Vediamo. I carabinieri della stazione di Caltagirone hanno denunciato un 22enne di San Michele di Ganseria perché è ritenuto responsabile del reato di danneggiamento aggravato. Nello scorso mese di settembre il sindaco di Caltagirone, Rocuzzo, si era recato presso la locale stazione Carabinieri per denunciare il danneggiamento avvenuto nel corso della notte del 18 settembre in piazza Umberto I della colonnina su cui era installato uno defibrillatore per pubblica emergenza. Lo strumento di fondamentale importanza per la speranza di vita in malaugurato caso di arresto cardiaco era stato donato alla città nel giugno del 2020 dal Lions Club di Caltagirone. È stato minuzioso da parte dei carabinieri il lavoro di ricerca e analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, sia del comune che di esercizi commerciali. Il 22enne è stato così immortalato mentre armeggiava con la colonnina facendola oscillare fino a divellarla dalla sua base e quindi cadere sull'asfalto. I militari attraverso una sinergia tra i vari comandi dell'arma per la loro personale conoscenza del giovane l'hanno riconosciuto e poi denunciato. Infrastrutture. Il sindaco di Catania Enrico Trantino ha ricevuto a Palazzo degli Elefanti il vicepremier Matteo Salvini. Una breve visita istituzionale in municipio a Catania del vicepremiere ministro per le infrastrutture Matteo Salvini che ha voluto incontrare il neosindaco del capoluoghe Etneo Enrico Trantino per augurargli buon lavoro e per un confronto operativo su alcuni temi di grande interesse per la città. Al centro del colloquio a Palazzo degli Elefanti il nodo ferroviario di Catania che da anni attende di essere finanziato, opera strategica del valore di circa 900 milioni di euro che consentirebbe di rimuovere la cintura ferroviaria e restituire il mare alla città. Argomento molto caro al sindaco Trantino e su cui il ministro Salvini ha mostrato grande disponibilità. Gli altri argomenti riguardano l'emergenza abitativa, il PNRR e l'infrastruttura per i trasporti e la mobilità tra cui il completamento della metropolitana. Ulteriori dossier specifici su cui Trantino e Salvini si sono riservati successivi approfondimenti e incontri. E' mio piacere tornare in questo straordinario comune, col sindaco abbiamo parlato subito di cose concrete quindi della stazione ferroviaria e della possibilità di restituire il mare ai catanesi abbiamo parlato dei problemi di sicurezza, dell'aumento di organico, dei problemi di pulizia e di quello che serve in concreto la città personale, contributi, attenzione dal mio punto di vista come infrastrutture, lavori pubblici, casa, trasporti, ci sono e ci sarò però non solo su questo. Quindi come Lega abbiamo dato in passato ma soprattutto daremo in futuro il nostro piccolo, grande contributo a seconda dei punti di vista a questa splendida città e sono venuto a fare i complimenti al sindaco perché vincere le elezioni con così tanto affetto, non solo voto, con così tanto affetto da parte dei cittadini vuol dire che c'è tanta fiducia che vedremo di ripagare al massimo. Il presidente Salvini con questa sua venuta a Catania è stato sensibile come sempre le abbiamo rappresentato i problemi del nodo Catania nella speranza che si possano trovare le risorse per il finanziamento ma è andato anche oltre chiedendo di verificare tutta una serie di questioni e di criticità che affliggono la nostra comunità, glielo esposte e si è mostrato estremamente sensibile nel cercare di individuare insieme le soluzioni. Manifestazione di protesta a Messina durante il convegno, il ponte sullo stretto infrastrutture e trasporti per unire l'Italia organizzato dalla CISL, Filca, CISL e FIT, CISL. Vergogna! 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 Ma è una follia quest'opera, abbiamo bisogno di tutt'altra cosa. Oggi hanno vietato a me per parlare dentro questo convegno qua che sono tutti accordati del Presidente della Regione al Ministro e hanno vietato la possibilità di dire la propria opinione. Non hanno il senso della democrazia. Mi dispiace che organizza un sindacato. è una gravità assoluta e nessuno dice niente. Potevano dare qualche minuto per poter dire la nostra opinione. Noi abbiamo fatto la manifestazione più imponente della città nel 2006. 20.000 persone sono scese in piazza. C'è una parte della città. È assurdo che dicono no a poter parlare tre minuti da dentro. Bisogna poter dialogare se si hanno delle idee diverse. Questo non è modo di comunicare. Sono là che guardano. Bisogna parlare perché ognuno ha delle idee. Vogliamo poter parlare. Ci sono tantissime altre cose da fare. Mezzina è uno sfacelo. Potremmo essere anche sì al ponte. Ma dopo e ma non credo neppure. Perché qua abbiamo un bellissimo posto dove ci sono pesci che sono in qualsiasi altra parte del mondo. Non ci sono. È stato definito il posto più bello del mondo. Presentato il logo della rete per la promozione antimafia nella scuola durante un convegno all'Istituto Pietro Piazza di Palermo. Dopo appena tre mesi dalla Costituzione la rete ha raccolto l'adesione di 90 istituti scolastici a Palermo e provincia. Le interviste. La legalità parte dalle scuole ma cosa ci vorrebbe di più? Le iniziative migliori sono quelle che partono sulla base della libera iniziativa delle scuole. E questo è un esempio. Qui abbiamo di fronte una settantina di scuole che si sono messe insieme e che intendono insieme perseguire un principio di promozione dei valori di educazione alla legalità. Quindi sicuramente ci vuole di più che da queste 70 scuole che nascono adesso a Palermo la rete possa estendersi anche in tutta la regione. Quindi direi che questo può essere sicuramente un buon proposito per proseguire. Tutto di forza di questa iniziativa è il ruolo che può svolgere e che deve svolgere la scuola nel contrasto alla mafia ma soprattutto nella promozione di una cultura antimafia. Se la mafia fosse una semplice organizzazione criminale avremmo già vinto. Il problema della mafia è che è in grado di costruire un'egemonia sociale e un'egemonia culturale ed è quello che deve fare la scuola perché la scuola contemporaneamente è in grado di promuovere un'antimafia istituzionale e un'antimafia sociale ed è in grado di costruire un'egemonia culturale. Ed è quello che stiamo tentando di fare nella costituzione di questa rete che mette insieme 90 istituzioni scolastiche della provincia di Palermo che pensano che si possa costruire un progetto comune, un progetto di rete perché fare rete oggi è molto più forte di lasciare le singole scuole a svolgere la propria attività. E invece se dovessimo parlare delle criticità che avete riscontrato durante la costituzione di questa rete? La rete è nata da pochissimo, la rete è nata solo da tre mesi e già è stata in grado di aggregare numerose scuole. Oggi ci proponiamo l'obiettivo di rilanciare questo presupposto, questo progetto in vista del nuovo anno scolastico per allargare questo progetto anche alla Sicilia. È evidente il fatto che esistano scuole di serie A e di serie B anche in base alla loro ubicazione. Sono le scuole della periferia che adesso vogliono andare verso il centro quindi non aspettiamo più che il centro arrivi alla periferia ma che la periferia vada verso il centro. Sono delle scuole comunque dove i docenti lavorano in modo molto motivato con estremo amore per quello che fanno. La mia scuola si trova a Borgo Nuovo e non credo che sia una scuola di serie B in nessun senso. Al di là delle strutture che sono fatiscenti e del quartiere che non offre quello che dovrebbe offrire la scuola comunque è una scuola viva, è una scuola che sperimenta tutti i giorni proprio per tenere questi bambini all'interno della scuola e non farli andare per strada e quindi dare un'opportunità di vita assolutamente diversa. Cosa bisognerebbe fare per far credere davvero a questi bambini che può esistere una svolta? Sicuramente dare dell'opportunità di conoscere qualcosa di diverso rispetto a quelle che sono le conoscenze che avvengono all'interno del quartiere della famiglia, sicuramente creare dei centri di aggregazioni nei quartieri dove non ce ne sono anche insieme appunto alle circoscrizioni, al comune per dare modo di sperimentare, di poter sviluppare le loro potenzialità e comprendere che c'è altro al di fuori per cui i progetti. Qua si parla di rete, ma esiste una rete o un filo conduttore con la politica, con l'amministrazione di questa città e con le scuole? Quello che noi vogliamo a livello di politica e amministrazione comunale è sicuramente una presenza sui territori a livello di servizi. Screening visivo pediatrico alla CEP organizzato dall'ASP di Palermo. L'85% dei bambini non aveva mai effettuato un controllo. All'ampedusa invece sempre l'ASP di Palermo ha dato il via alle visite per i disturbi del linguaggio nei bambini. L'85% dei bambini sottoposti allo screening pediatrico organizzato dall'ASP di Palermo nel quartiere CEP non aveva mai effettuato un controllo visivo. L'iniziativa riservata ai piccoli dai 3 ai 8 anni è stata organizzata dall'azienda sanitaria in occasione della decima giornata mondiale dell'ortottista nei locali della parrocchia di San Giovanni Apostolo. Grazie al supporto dell'associazione culturale San Giovanni Apostolo Onlus che si occupa di inclusione sociale, lotta al disagio e l'assistenza scolastica soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche sono stati 123 i piccoli che accompagnati dai genitori hanno effettuato lo screening visivo curato dagli ortottisti Dario Catalano e Anna Maria Baudo. Riscontrare come per moltissimi bambini si sia trattato dal primo controllo visivo conferma ancora di più il valore e l'importanza delle attività di prossimità dell'ASP ha sottolineato il commissario straordinario Daniela Faroni attività che ampliamo ancora di più inserendo in questa fascia pediatrica anche lo screening logopedico per valutare e verificare in un momento della crescita in cui è possibile intervenire con maggiore efficacia i disturbi del linguaggio che possono determinare successivi disturbi specifici dell'apprendimento. I nostri professionisti sono a Lampedusa per avviare l'attività tra i bambini della scuola dell'infanzia. Tra i casi emersi sconosciuti ai genitori dei piccoli dai controlli visivi al CEP strabismo intermittente divergente di cui uno con severo deficit della convergenza strabismo restrittivo dovuto all'alterazione della motilità oculare riconducibile alla sindrome di Brown e diversi bambini con astigmatismo e miopia che meriteranno l'approfondimento sempre garantito dall'ASP nei propri ambulatori di oculistica. È stata presentata oggi nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca a Messina la prima edizione di Sud Innovation Summit, un evento che porterà in città per due giorni il 14 e il 15 settembre al Palacultura le grandi aziende di Big Tech. Il Sud Innovation Summit sarà una due giorni, il 14 e il 15 settembre, in cui si parlerà di innovazione. Il tema centrale è ispirare tutte le componenti, quindi le aziende, le grandi aziende che verranno come Microsoft, Airbnb, Alibaba, Enel per citarne un'italiana, ispirerà una platea di persone provenienti da tutto il Sud e a sua volta Microsoft e l'azienda Airbnb verranno ispirate da questo panorama meraviglioso che è lo stretto. L'assunto di questo evento è sostanzialmente il voler ispirare e far capire che si può fare innovazione anche al Sud. Da Milano fino a Roma ci sono eventi quotidianamente che parlano di innovazione tech, mentre da Roma in giù sostanzialmente c'è questo vuoto che noi ci proponiamo di colmare. per fare in modo che si possa vedere quanto è florido del territorio, quanto è bella Messina in questo caso e cosa può offrire anche queste grandi aziende che speriamo poi possono investire nel territorio per valorizzarlo. Allo stesso tempo speriamo che la platea che interverrà a studenti, universitari, piuttosto che aziende trarranno giovamento dai racconti di queste grandi aziende, traendone ispirazione per poi nei giorni futuri cercando di avere quello switch mentale che li porterà a innovare, perché l'innovazione è il fondamento di qualsiasi attività futura per tutti. Tanti eventi organizzati per il centenario del liceo Principe Umberto di Catania, tra cui una quadrangolare misto di pallavolo al Pala Catania. Nell'ambito delle celebrazioni del centenario del liceo Principe Umberto, a Catania si stanno svolgendo una serie di manifestazioni di valorizzazione delle eccellenze con premiazione degli studenti meritevoli. Al Pala Catania di corso indipendenza si è svolto organizzato dal liceo Principe Umberto un quadrangolare di pallavolo tra i quattro licei scientifici della città. Nell'ambito delle celebrazioni abbiamo organizzato con la commissione rifesteggiamenti del centenario 20 convegni ai quali hanno partecipato tanti ex studenti che adesso rivestono ruoli importanti sia a Catania che fuori dall'Italia, coerentemente con gli indirizzi che adesso abbiamo che sono scientifico e linguistico e quindi abbiamo toccato vari ambiti disciplinari. I ragazzi ci sono allenati all'interno dei campionati studenteschi con le loro insegnanti, la professoressa Sciacca Patrizia e la professoressa Puleo Stefania durante i campionati studenteschi. Questa è una giornata per lo sport e non importa chi vincerà è solo che è veramente una bellissima giornata di festa e così pensiamo di festeggiare questo vecchio liceo dal quale sono nati tutti gli altri licei. Il 9 giugno alle ore 19 presso l'Istituto Ardizione Gioieni di Vietnea avrà luogo la manifestazione conclusiva degli eventi celebrativi del centesimo anno scolastico del liceo scientifico Principe Umberto di Savoia, ora anche liceo linguistico. L'evento sarà celebrato anche con uno speciale annullo filatelico sin dalle ore 14 alle ore 20. Presso l'Istituto Ardizione Gioieni di Catania saranno protagonisti i nostri studenti, i nostri ex studenti, abbiamo anche degli ospiti di ex studenti che si sono diplomati 55 anni fa e altri 45 anni fa. I ragazzi, dicevo, saranno protagonisti con delle performance sia di drammatizzazione, musicali. Dal 13 al 18 giugno andrà in scena il terzo titolo di balletto della stagione Carmen, una nuova creazione realizzata per il corpo di ballo del Teatro Massimo. L'intervista. Al Teatro Massimo di Palermo la Carmen di Leo Mucic. Qual è la particolarità di questa rappresentazione e soprattutto la novità all'interno del corpo di ballo? La particolarità di questo balletto è un balletto narrativo, veramente, è un balletto neoclassico che vuole dire che lui usa una tecnica di danza classica spingente all'estremo con le scarpe di punte, con tutte le donne con le scarpe di punte, con tutti i movimenti grandi, con tutte le pusee, spinge all'estremo. Lui ha appreso la storia della Carmen, veramente dell'opera, del balletto della storia, sulla musica di Bizet. E sono contentissimo perché abbiamo anche due primi ballerini ospiti dell'opera di Sofia, Bulgaria, che sono favolosi, con un livello tecnicamente mondialmente riconosciuto. E anche lui, Leo Mujic, è un coreografo veramente favoloso perché lui ha fatto tanti tanti balletti in Croacia, in Bulgaria, in Slovenia, in Francia, in Italia. Lui è veramente una personalità straordinaria. Il corpo di ballo del Teatro Massimo hanno fatto un lavoro spettacolare, tutti i ballerini per due mesi hanno provato ogni giorno con lui, hanno fatto un lavoro, sono molto fiero di tutti loro. Spero che questo spettacolo sarà veduto con tutto il pubblico palermitano perché dobbiamo vedere questa. Lui ha appreso la musica di Bizet di Carmen, ma anche dell'Arlesienne, anche un'apertura dell'opus, come si dice in italiano, a minore, a maggiore, non lo so. E lui ha fatto un cambio di tutto, ha messo anche le rumore, le brui, du bruitage, la pluie, la piove, tutti questi. È veramente un spettacolo differente perché non abbiamo l'orchestra, perché l'orchestra del Teatro Massimo è un tourno al Giappone, ma non si sente. L'atmosfera di questo balletto è veramente un'atmosfera bellissima, fortissima, con molto dramma. La Carmen Marta Petkova è stupenda, Don Rossi, il suo partner Nicolai Agitenev, è veramente bellissimo. Quindi un appello alla città. A vedere questo spettacolo, perché avere un palcoscenico così, il più grande palcoscenico di tutta l'Italia, avere questa Carmen con 24 ballerini, è spettacolare, si prende il cuore, la passione, non si vede, il corpo di ballo ha fatto un lavoro esemplare. Grande successo a Comiso per il Bufalino Jazz, l'appuntamento dedicato alla passione dello scrittore comisano per questo genere musicale. prossimo evento, l'11 giugno, una passeggiata tra i luoghi vissuti dall'autore. La passione e gli interessi di Bufalino erano infiniti, però il jazz occupa una parte importante, anche letterariamente importante, con delle citazioni dirette che i musicisti di stasera cercheranno, diciamo, di estrapolare e reinterpretare con un gusto e una sensibilità senz'altro moderna e contemporanea. Insomma, questi sono, tra virgolette, pretesti, pretesti di eccellenza per fare scattare un cortocircuito tra la figura artistica, poliedica di Gesualdo Bufalino e i linguaggi, i linguaggi portanti delle arti contemporanee. Questa sera abbiamo il piacere di omaggiare Gesualdo Bufalino per la musica jazz, insomma, che è stato il suo genere preferito. Abbiamo studiato, insomma, tutto il repertorio che lui amava, abbiamo fatto un lavoro approfondito e stasera, insomma, daremo anche la nostra chiave di lettura a questo tipo di repertorio che è comunque molto articolato perché la parte che trattava Bufalino, che ascoltava, comunque parla del jazz arcaico che è quello, insomma, degli anni dieci, gli anni venti, che non è molto simile a quello che si suona ora, quindi abbiamo dovuto fare anche un po' un lavoro di modernizzazione, tra virgolette. Una cosa molto bella, tra l'altro, ritrovarmi qui dove ho conosciuto Giovanni che era all'inizio e suonare con lui stasera insieme e quindi, per quanto riguarda la mia posizione, mi dà una grande positività perché ti rendi conto che almeno con parecchi giovani che hanno un entusiasmo, una voglia di andare avanti nel modo giusto, dà molta positività alla musica, no? E quindi poi la situazione qui è molto bella, cioè quindi succedono tante cose e quindi il posto è magnifico, quindi meglio di così. Da insegnante di lettere, amante della scrittura di Bufalino, non posso che essere contenta di questa possibilità di riportare giovani e meno giovani al piacere della parola forbita, della parola altra, della parola difficile, ma non per il piacere della difficoltà, ma per il desiderio di approfondire il ragionamento, perché noi ragioniamo attraverso le parole non per concetti puri e quindi quella che ha fatto Bufalino, l'operazione di Bufalino, un'operazione di grande sfida nei confronti del lettore per farlo assurgere al suo livello. Allo Sport Village Tommaso Natale di Viale Agiacia a Palermo, il primo memorial peppino tedesco, storico custode del campo Malvagno, scomparso negli scorsi mesi e padre dei due fratelli calciatori in campo, molti volti noti della storia rosa-nero, una serata anche all'insegnà della beneficenza con la presenza dell'Associazione Diabetici della provincia di Palermo. Noi siamo sul territorio a Palermo dal 1984 e principalmente noi ci occupiamo dei bambini al diabetici, all'esordio e il nostro fiorello sono i campi scuola che facciamo già da più di 30 anni questi bambini, allontanarli dalla famiglia per cercare di gestire bene la patologia e renderli autonomi. Siamo supportati per questi campi scuola dall'equipe dell'ospedale dei bambini. Ringraziamo enormemente i fratelli tedeschi che ci hanno invitato qui a partecipare a questa splendida organizzazione che andrà a vantaggio dei nostri bambini. Speriamo solo di continuare a collaborare anche perché l'attività fisica è uno dei cardini della buona gestione del diabete. Benvenuti a questo primo Memorial Peppino tedesco e volevo ringraziare tutti gli ex compagni di squadra, avversari da Bogdani a Delgrosso, a Santana, a tutti i miei compagni dove sono cresciuto, dai giovanissimi fino alla prima squadra, Tardinale, Lavardera, Ferrara, Marino, Galeotto, Vasari, tutti tutti tutti. Grazie veramente a tutti. Speriamo che sia servita anche per l'associazione questa serata. Nel nostro piccolo cerchiamo di aiutare anche chi è meno fortunato di noi. Ed è tutto per questa edizione. Grazie per averci seguito appuntamente ai prossimi notiziari di Media News. Grazie a tutti.